abecedarius plus ormai è diventato il latino di seconda perché ci inoltriamo con le conoscenze che si fanno nel corso del secondo anno il video è dunque il numero 8 il plus denota questa nuova serie più impegnativa rispetto ai primi video l'argomento di oggi sono i verbi deponenti se siete pronti andiamo ad incominciare que titum labienum legatum in treveros cui prossimi flumini reno sunt cum equitatu mittit uic mandat remos reliquosque belgas adeat atque in ufficio continiat germanosque si pervim navibus flumen transire conentur proibiat la partenza è sempre dalla individuazione dei verbi quindi li segnaliamo con l'evidenza di un giallo abbiamo il sum dopo di che abbiamo mittit mandat adeat continueat transire conentur e ancora proibiat ci sono dei congiuntivi anche oltre alle forme dell'indicativo al solito noi diciamo sempre tanti verbi altre tante frasi quindi partiamo dal sunt e il sunt è il primo verbo che incontro e che introdotto che è retto da questo qui è un pronome relativo quindi questa frase è una frase relativa una proposizione relativa qui prossimi flumini reno sunt però cerchiamo ancora il verbo della principale puntiamo a questo mittit e dunque mito mandare manda in la traduzione il soggetto è sottinteso come spesso nei testi di cesare questa questa è una frase estrapolata dal de bello gallico di cesare mittit predicato verbale il complemento oggetto può essere identificato in questo titum labienum legatum è un altro accusativo che si accosta a titum labienum e che rappresenta un apposizione del nome legatus fra l'altro nei testi di cesare può essere tradotto o con ambasciatore se cesare invia qualcuno in ambasceria come missione presso altri popoli oppure può essere luogotenente come in questo caso che vuol dire un funzionario un graduato militare che è sotto cesare una persona di fiducia dunque legatum è mito mandare lo manda evidentemente in treveros e oltretutto si aggiunge che va insieme alla equitatus quindi insieme alla cavalleria all'equitatus perché equitatus come peditatus fanterie sono maschili e poi c'è a questo punto da inserire il pronome relativo che è un nominativo maschile plurale e che ha come predicato verbale questo sunt al sunt potrei pensare di accostare questo proximi che viene da proximus a um e che significa molto vicino o il più vicino è un superlativo da prope proprio propius proximus a um il più vicino a e ci sta benissimo dunque la presenza immediatamente dopo del fiume reno quindi qui sunt proximi flumini reno questa è la costruzione la traduzione viene risulta cesare invia il luogotenente titola bieno fra i treveri o i treveri verso i treveri insieme alla cavalleria cavalleria che attenzione che il relativo va sempre messo nella costruzione immediatamente dopo il sostantivo al quale si riferisce allora dobbiamo fare una correzione nella costruzione e considerare che i treveri a cui si riferisce il qui dovrà risultare immediatamente precedente rispetto al qui cesare invia il luogotenente titola bieno con la cavalleria fra i treveri che sono i più vicini al fiume reno e poi si legge uic mandat quindi mandat è il predicato verbale mando significa raccomandare ma anche dare ordine prescrivere e uic è il dativo singolare un maschile di ic ec oc e quindi significa da ordine a costui oltretutto devo anche verificare sul dizionario la costruzione di mando mandare e posso possiamo anzi vedere insieme come mando mandare significhi affidare consegnare ma poi anche dare un incarico ordinare e il dizionario mi segnala che questo verbo ha come costruzione come reggenza ut o ne è il congiuntivo e in questo caso è una volitiva al pari di tante altre le frasi col congiuntivo dipendenti da verbo da verbi di preghiera esortazione comando oppure semplicemente c'è scritto sul dizionario anche solo con il congiuntivo e il castiglioni mariotte riporta proprio questa nostra frase mandat uic consideriamo che sia sottinteso un ut e qual è l'ordine che cesare da ad uic che sarebbe a luogo tenente labieno adeat e poi remos et reliquos belgas ricordo che questo que è una congiunzione in clitica ma vale per let quindi nella costruzione lo porto prima mandat uic ut adeat remos et reliquos belgas e poi c'è latque che è la congiunzione il predicato verbale è continueat e quindi lo metterò subito dopo la congiunzione in ufficio attenzione mandat è un indicativo presente ma adeat lo davo per scontato ma lo ribadiamo lo spieghiamo meglio adeat come continueat sono due forme di congiuntivo presente come riconoscerle ma fondamentalmente dalle vocali che si trovano alla fine dalle vocali tematiche in eat riconosco la terza persona di adeo adis adire è una terza persona singolare un composto di eo che fa eam eas eat e avanti al congiuntivo presente continueat invece per la presenza della vocale ea trattasi di un congiuntivo presente di un verbo della seconda coniugazione la traduzione dunque sarà dall'incarico a costui o a questi riferito a labieno di recarsi di avvicinarsi ai remi e agli altri belgi e a continueat continueat significa trattenere e a trattenerli possiamo aggiungere un pronome personale in ufficio vuol dire nel loro dovere nell'obbedienza e quindi a trattenerli nel loro dovere di obbedienza mandat oltre ad adeat e a continueat regge anche proibeat e quindi la nostra costruzione prosegue con un et che congiunge proibeat ai due verbi precedenti figurerà a questo punto il predicato verbale di questa frase volitiva che non ha lut poi metto il germanos in che è il complemento oggetto e poi c'è una frase introdotta dal si questo si introduce una proposizione condizionale che è costruita con conentur in cui riconosco visto che il verbo è conor conaris conatus un conari riconosco una forma di congiuntivo presente per la semplice ragione che riscontriamo la presenza di una e che è la vocale tematica del congiuntivo presente della prima coniugazione dunque abbiamo proibeat germanos poi mettiamo il si porto sotto la congiunzione inserisco il conentur che regge il transire conor significa tentare ed è il verbo deponente che di nostro interesse il transire lo sposto dopo e poi abbiamo ancora transire che significa oltrepassare passare oltre è un composto evidentemente di transeo di eo ire andare transire ha il flumen come complemento oggetto e l'accusativo retto da transire e poi navibus navis 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 e la nave e poi per vim è inteso come complemento di modo vis roboris e la violenza e quindi la frase ce l'abbiamo costruita risulta che da ordine a costui i vari ordini che ha detto di avvicinare di recarsi di trattenere e di impedire o di trattenere tenere lontani i germani qualora conentur tentino di oltrepassare il fiume con le navi ricorrendo alla forza rex ptolemeus iam erat assenatu onore mistum consecutus pacatus quietus fretus imperio popoli romani regno paterno atque avito regali ozio per frue batur identifichiamo subito i predicati verbali erat consecutus qui c'è un forte iperbato vale a dire erat consecutus è un'unica forma anche se in questo caso risulta separato il participio perfetto dal verbo essere ma lo leggiamo come consecutus erat quindi si tratta di un indicativo più che perfetto di consecuor composto di sequor che fa sequor sequeris secutus sum sequi un verbo deponente della terza coniugazione questo è il verbo della proposizione principale poi abbiamo come verbi da considerare perfrue batur che viene da perfruor composto di fruor frueris fruitus sum frui che uno di quei cinque verbi celeberrimi perché reggono tutti l'ablativo abbiamo di ricordarli sono utor vescor fruor fungor e pozior fra l'altro pozior significa impadronirsi e soltanto nell'espressione potiri rerum che significa impadronirsi del potere assoluto regge il genitivo dunque andiamo con ordine abbiamo come soggetto rex ptolemeus a cui facciamo seguire il più che perfetto del verbo che il predicato verbale poi ci mettiamo la forma iam che l'avverbio honorem istum mi va bene come complemento oggetto retto da consecuor che significa conseguire raggiungere e poi assenatu è un complemento di provenienza quindi il senso è che il retto polemeo aveva conseguito da parte del senato già questo onore quindi aveva ricevuto già da parte del senato questo onore e poi di lui si dice anche che era pacatus quindi tranquillo in pace e poi frettus interessa perché se vado a cercare sul dizionario frettus con il dativo o l'ablativo significa contando confidando in allora ecco che il mio dativo o ablativo è rappresentato da questo imperio la locuzione frettus imperio significa confidando nel potere popoli romani sarà il mio genitivo e poi abbiamo un regno paterno atque avito regali ozio per fruebatur per fruor significa godersi tra regiovamento da ed è un verbo l'abbiamo detto prima che si regge che regge l'ablativo l'ablativo possiamo identificarlo in questo regno paterno atque avito vuol dire che godeva o si godeva il regno ereditato dal padre e dagli avi e regali ozio potremmo intenderlo come un complemento di di modo un complemento di 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 stato in luogo figurato si godeva in un ozio regale dunque ricapitolando abbiamo che il re tolomeo tranquillo in pace confidando nel potere del popolo romano si godeva il regno ricevuto dal padre e dagli avi in un ozio regale per fruor e consecuor sono due verbi deponenti aveva conseguito e si godeva lo si traducono comunque in forma attiva un'altra frase questa volta di cicerone in cui leggiamo sed i eam sapientiam interpretantur quam aduc mortalis nemo est consecutus nos autem intanto i predicati verbali si parte da interpretantur poi abbiamo un est consecutus simile al verbo ora visto poi abbiamo un sunt un finguntur autoptantur e poi spettare debemus altre due forme verbali andiamo con ordine partiamo dal verbo interpretantur il primo che incontriamo ci serve identificare il soggetto potremmo puntare su questo i perché i è il è la forma del nominativo plurale maschile di ic ec oc segue quindi interpretantur interpretantur che cosa eam sapienza che vale come complemento oggetto eam sapienza quam il quam è un pronome relativo che è riferito a sapientiam pronome femminile singolare accusativo che è riferito a sapienza e che vale come complemento oggetto della frase e in cui è inserito quindi sarà necessario mettere il quam il predicato verbale consecutus est e però il soggetto evidentemente è questo nemo mortalis quam nemo mortalis aduc che significa ancora oggi ancora est consecutus dunque ma essi anzi ma costoro interpretantur è un verbo deponente della prima coniugazione nel senso di interpretare intendere ma costoro intendono eam sapienza quella sapienza quella saggezza che nemo mortalis nessun mortale finora fino ad oggi est consecutus ha conseguito nella seconda parte questo autem è importante perché fa da snodo e marca evidentemente la contrapposizione fra questo i e questo nos e dunque procediamo con l'ordine della nuova frase nos autem il verbo di nos che è un nominativo e questo debemus seguito dall'infinito spettare la frase minima noi invece dobbiamo osservare che cosa dobbiamo osservare ea que questo nesso interessante e lo analizziamo ea è l'accusativo neutro plurale di is eaid che rappresenta il complemento oggetto di spettare questo que invece è il soggetto della frase che segue ma questo que è un pronome relativo che è riferito che ha il suo antecedente in ea si traduce quelle cose che sunt questo è un nesso importante perché perché il pronome relativo al suo antecedente in un determinativo che è espresso ma voglio anche segnalare che più volte accade di verificare che ea sia sottinteso per la semplice ragione che quando il determinativo e il relativo sono nello stesso caso allora il determinativo si può sopprimere cose buone a sapersi que sunt che cosa sunt in uso et vita comuni così prosegue la frase di cicerone spostiamo soltanto quel que lo facciamo diventare un et et vita comuni e poi c'è un non che porta avanti quindi il discorso di prima non ea que di nuovo lo stesso nesso lo riportiamo sotto non ea que e il predicato verbale è finguntur ed optantur fingo fingere un verbo attivo quindi qui impiegato nella forma passiva e lo stesso discorso vale per optantur che è un verbo attivo opto optare che è impiegato nella forma passiva la traduzione noi invece dobbiamo osservare quelle cose che sono nell'esperienza e nella vita comune sostituiamo il sono che si riscontrano nell'esperienza e nella vita comune e non quelle cose che finguntur si inventano o si desiderano evidentemente la frase può sembrare strana ma il senso lo possiamo ricostruire dalla conoscenza del passo in cui viene riportato cicerone ha intenzione di definire che saggezza per lui non è quella dei sapienti che pensavano a qualcosa di irraggiungibile ma è la saggezza che si spende quotidianamente nell'esperienza e nella vita comune verum enim amicum quintuetur tanquam exemplar aliquod intuetur sui lo stesso verbo fa perno in questa frase in una relativa questo è un qui pronome relativo e sia nella frase relativa sia nella frase principale intueor composto di tueor tueris tuitusum tueri significa guardare dentro osservare partiamo dunque dalla relativa qui in tuetur aggiungiamo il complemento oggetto e poi il si prosegue con il verbo della proposizione principale exemplar aliquod che vale come accusativo come complemento oggetto ma viene anticipato da tanquam e poi c'è il sui che potrei mettere subito dopo exemplar dunque qui in tuetur mi manca il soggetto questo qui è buona norma renderlo con colui che ma teniamo presente che è sottinteso un is per la regola vista nella frase precedente entrambi al caso nominativo si omette il determinativo qui in tuetur chi infatti guarda un vero amico guarda come un immagine un'immagine di sé questo è il senso a sottolineare la somiglianza tra gli amici l'ultima frase tribuni militum abdit in tabernaculis aut sum fatum querebantur aut cum familiaribus suis comune periculum miserabantur miserebantur allora abbiamo querebantur e poi miserebantur da segnalare subito ma anche questo abditi interessa perché viene da abdo abdis abdidi abdidum abdere significa nascondere in questo caso abbiamo un participio passato passivo mentre invece le altre due forme verbali sono rispettivamente da querebanturis questo sum query che significa lamentare o lamentarsi e che va assolutamente distinto da quero queris quesivi quesitum querere che significa invece chiedere per sapere questo è un verbo deponente l'altro verbo deponente miserebantur che viene da misereor misereris miseritus sum misereri e significa commiserare la frase minima è tribuni militum querebantur ma in realtà devo anche inserire dopo tribuni militum questo abditi perché un participio espresso al nominativo maschile plurale quindi evidentemente si riferisce ai tribuni e sono abditi in tabernaculis che riportiamo subito come complemento di stati in luogo sono nascosti nelle tende poi è anche buona norma rilevare come ci sia un out e poi un altro out la buona norma è rilevare le congiunzioni per cui sia querebantur che miserebantur sono entrambi coordinati dall'out e sono le due azioni compiute dai tribuni militum nel primo caso abbiamo querebantur fatum sum nel secondo caso abbiamo che miserebantur comune periculum cum familiari bus suis è un complemento di compagnia la resa è tribuni militum abditi in tabernaculis out querebantur sum fatum out miserebantur comune periculum cum familiari bus suis e la traduzione sono i tribuni dei soldati nascosti nelle tende o lamentavano il loro destino o commiseravano il comune pericolo insieme ai loro familiari l'osservazione ultima è su questo sum che vale come suo ma anche come loro sus a um è un aggettivo possessivo che viene usato però sempre come riflessivo riferito al soggetto è chiaro che in questo caso il soggetto è essi plurale e pertanto il sum va tradotto con loro abecedarius il latino di seconda il videotto la serie plus è arrivato al termine abbiamo avuto modo di ripetere un po il meccanismo dei verbi deponenti se la cosa vi è parsa utile lasciate pure un riscontro che sarà gradito e intanto buon lavoro